Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi siamo il 21 maggio, quindi si è conclusa la seconda parte del GDL di Via Colvento. Il GDL che dura per tutta la primavera, anche se tanto primavera non sembra. Comunque, io vi lascio nell'info box i link ai due video precedenti, ovvero il video in cui vi spiego come funziona il GDL e il video in cui parlo della prima parte, quindi la lettura che abbiamo fatto il primo mese. Adesso parlerò della seconda parte, quindi dei capitoli che vanno dal 22 al 42. Come ho detto anche l'altra volta, se non avete letto il libro e volete leggerlo, allora forse questo video non fa per voi, perché essendo un gruppo di lettura, con questo video voglio approfondire tanti aspetti del libro che ovviamente comprendono diversi spoiler, quindi insomma regolatevi in base alle vostre esigenze. Se invece avete letto il libro o fate parte comunque del GDL e avete letto questa seconda parte, allora ovviamente vi aspetto nei commenti per sapere anche la vostra opinione su tutti i punti che toccherò. Partiamo dalla trama, la dico proprio in due parole perché in realtà in questo libro avvengono veramente un miliardo di cose, quindi cerco di fare un riassuntino giusto per renderci conto dove siamo. Avevamo lasciato Rossella alla fine della prima parte in balia del parto di Melania, siamo nel bel mezzo della ritirata dei soldati degli stati del sud, l'esercito Yankee sta avanzando e conquistando e vincendo tutte le battaglie, quindi non c'è un dottore disponibile e Rossella quindi si occupa del parto di Melania. Melania partorisce, subito dopo sono costrette a lasciare insieme alla piccola ragazza di colore insomma che accompagna Rossella e appunto al neonato di Melania, al figlio di Rossella, la città di Atlanta in tutta fretta perché stanno arrivando i soldati che stanno bruciando tutto quello che trovano sul loro cammino. La direzione è Tara perché Rossella è preoccupatissima di ciò che gli Yankees potrebbero aver fatto alla sua casa, quindi dopo diverse peripezie che comprendono anche l'abbandono di Rhett, delle donne in mezzo a una strada per andare ad arruolarsi all'ultimo momento nell'esercito, loro comunque riescono ad arrivare a Tara. Qui inizia un periodo difficilissimo per la nostra Rossella perché incontra una realtà completamente diversa da quella che aveva lasciato, sua madre è morta, suo padre è praticamente impazzito per il dolore della perda della moglie, le due sorelle sono gravemente malate, sono rimasti soltanto pochissimi servi, pochissimi schiavi, mentre gli altri ormai liberi se ne sono andati. L'unica fortuna è Tara non è stata bruciata come molte delle case della Contea. Quindi Rossella si rimbocca le maniche e affronta questo periodo durissimo che la vede tentare in tutte le maniere di riportare Tara alla gloria che aveva un tempo, quindi cercare di guadagnare denaro per mangiare lei e tutta la sua famiglia e soprattutto riportare Tara ad essere una piantagione produttiva per poter vivere tutti. Mi blocco un secondo nel raccontare la trama perché proprio in questo punto c'è una delle frasi probabilmente più celebri di Rossella e me la sono segnata perché mi ha veramente emozionata. Rossella sta cercando del cibo disperatamente negli orti abbandonati delle case degli schiavi e ha fame, ha tanta fame, una cosa che non aveva mai provato prima e queste sono le sue parole. Dio mi è testimone che gli Yankees non mi abbatteranno, supererò questo e quando sarà passato non soffrirò mai più la fame, né io né i miei. Dovessi robare o uccidere, Dio mi è testimone che non soffrirò la fame mai più. Una volta che Tara è tornata a reggersi sulle proprie gambe diciamo subentrano nella proprietà due personaggi, il primo è Ashley che avevamo lasciato in guerra e che è stato per un periodo di tempo in un campo di prigionia e che è tornato da sua moglie Melania. Il secondo è Will, un soldato che ha trovato rifugio tra le mura di Tara e che non lascerà più questa casa, anzi si affiancherà a Rossella per la sua gestione e nei lavori di tutti i giorni. A un certo punto poi Rossella si rende conto che ha bisogno di un'entrata fissa per poter pagare le tasse perché queste tasse sulla proprietà aumentano di anno in anno proprio perché l'obiettivo è quello di toglierle la proprietà. Per questo lei decide che deve assolutamente sposare un uomo ricco, ormai tanto lei è vedova ed è l'unica abbastanza coraggiosa e abbastanza intelligente da capire che questo è quello che deve essere fatto. Quindi va ad Atlanta a cercare Rhett, la persona più ricca che conosca, lo trova in prigione, hanno un dialogo abbastanza esilarante in cui lei sfodera tutte le sue armi di seduzione ma lui non si lascia ingannare e qui insomma la cosa non si conclude. Alla fine Rossella finisce per sposare Franco, in realtà lo spasimante di sua sorella, con una serie di bugie e di piccoli trabocchetti riesce insomma a conquistare quest'uomo a farsi sposare. Pensava fosse ricco, in realtà è un uomo che ha un po' di ricchezza ma sicuramente non è in grado di amministrarla. Piano piano Rossella quindi prende il comando all'interno di questa nuova famiglia che si è formata e comincia a gestire le finanze, lascia un negozio delusato praticamente al marito mentre lei riesce a comprarsi addirittura uno stabilimento che lavora in legname, successivamente ne acquisterà anche un altro e si metterà a lavorare, a cercare di riguadagnare quei soldi che gli permettono di tornare ad avere la vita che aveva prima. Questo ovviamente provoca un grandissimo scandalo all'interno di Atlanta perché ora lei si è trasferita lì perché una donna che lavora è qualcosa che scandalizza. Inoltre in questo periodo si rafforza l'amicizia tra lei e Rhett che intanto è uscito di prigione e trascorrono molti pomeriggi insieme chiacchierando. Rossella poi rimane incinta di Franco nonostante il suo enorme dispiacere perché come sappiamo lei non ama i bambini. A un certo punto è costretta a tornare a Tara perché? Perché è morto suo padre in una situazione molto triste e molto discutibile che vede soprattutto sua sorella Suzelle come una delle principali responsabili se non la principale responsabile e qui scoprirà che Tara sta cambiando, che Will e Suzelle vorrebbero prenderla a sposarsi e quindi gestire l'intera piantagione e che Ashley e Melania invece che erano appunto rimasti a Tara vogliono andare a New York. Ecco che a questo punto rispunta tutto l'amore di Rossella per Ashley che quindi cercando di tenerlo vicino a sé gli offre il lavoro nello stabilimento insomma di legname, nella segheria che ha e quindi lui e sua moglie si trasferiscono ad Atlanta. Praticamente questa parte termina proprio con vediamo insomma che Rossella è incinta per l'appunto, vediamo come Melania e Ashley si ambientano nella città di Atlanta ma soprattutto vediamo quanta difficoltà abbia Rossella nel gestire questi due stabilimenti perché non riesce a trovare dei lavoratori che siano abbastanza affidabili e capaci negli affari. Sia per quanto riguarda la mano d'opera che per chi gestisce gli stabilimenti come per esempio Ashley. Bene direi che questo è il riassunto, ho cercato di fare il più riassunto possibile di quello che è successo. Adesso andiamo ad analizzare vari punti che io ho trovato interessanti. Il primo punto che voglio affrontare riguarda l'affetto di Rossella per le persone della sua famiglia. Io penso che questo personaggio andando avanti nella storia si riveli veramente sempre più particolare. Una donna che è quasi incapace di provare affetto per un membro della sua famiglia. Anzi direi che ha voluto bene nella sua vita forse soltanto al padre e alla madre. Considera le sorelle completamente stupide e incapaci di capire che cosa la guerra e la perda della guerra diciamo richiede loro. E non sopporta il figlio tanto che non viene praticamente mai nominato il figlio Wade e molto spesso ci dimentichiamo che esista proprio perché tutto fa fuorché la mamma. Quindi diciamo che prova poco affetto per Melania nonostante sia una donna che le è sempre stata accanto. Il suo affetto va solo in due direzioni esclusi i genitori Ashley del quale parleremo dopo e Tara. Tara la sua casa quella che ha costruito suo padre dal niente che si è rimboccato le maniche arrivando da lontano senza un soldo e che ha tirato su per dare una vita migliore a lei e alla sua famiglia. L'affetto per Tara è qualcosa che traspare da ogni riga da ogni parola di Rossella. Lei ama quel posto talmente tanto da sacrificare tutta se stessa per per mantenerlo in vita da sacrificare il suo amore la sua persona le sue mani la sua bellezza qualunque cosa pur di far risollevare Tara dopo il disastro della guerra. Parlando di personaggi mi ricollego quindi alla nostra Melania Melania che avevate ragione voi mi avete corretto la prima volta che ne ho parlato perché avevo detto che alcuni atteggiamenti un po' troppo buonisti della della donna quasi mi irritavano ma non è vero andando avanti mi rendo conto di quanto questa donna sia piena di virtù e non è assolutamente una stupida come invece la definisce spesso Rossella. E' una donna che sa quello che fa che difende con ardori e anche qui lo vediamo di nuovo anche in questa parte tutto ciò in cui crede e che quindi porta avanti le sue idee ma allo stesso tempo riesce ad essere amata da tutti riesce a non destare mai scandalo riesce ad essere buona e anche nei momenti in cui si discosta dalla tradizione le persone non possono che ammirarla. Quindi è un personaggio che si rivela ogni pagina più coinvolgente più umano e qualcuno da imitare e prendere dovremmo prendere esempio ecco dai suoi atteggiamenti. Mi piace moltissimo la contrapposizione fortissima che c'è tra Rossella e Melania non soltanto dal punto di vista caratteriale che ovviamente è la cosa principale ma anche dal punto di vista fisico il fatto che Melania sia felicissima di vivere anche in povertà perché sa che le cose importanti sono gli affetti. Pensate il contrario invece di Rossella a cui piace mostrarsi sempre nel suo stato migliore perché forse la cosa più importante nella sua vita in realtà sono i soldi non sono le persone. Una bella in salute che è rimasta incinta più di una volta quindi con facilità mentre l'altra una persona di salute cagionevole che dopo il primo parto sicuramente non ne può affrontare un altro. Quindi insomma mi piace questa ambivalenza, questo contrasto tra due personaggi che riusciamo diciamo ad amare però in maniera diversa. Altro personaggio di cui vi parlo perché ormai parlo di questi è ovviamente Franco. Franco è appunto il secondo marito di Rossella ed è un personaggio che fa quasi sorridere. Un uomo che è stato abilmente ingannato da Rossella all'inizio della loro storia tanto che Rossella gli ha proprio raccontato delle menzogne alle quali lui ha creduto e si è fatto abbindolare da questa sua recita diciamo dove Rossella si mostrava completamente ignara di tutto, ingenua, dolce, fragile. Tutto ciò che un uomo desidera o comunque desiderava all'epoca da una moglie. In realtà poi dopo il matrimonio avviene il grande cambiamento, lei assolutamente non è così, si mostra per quello che è, una donna totalmente indipendente con un cervello che funziona, anzi forse funziona più di quello del marito. E lui si trova costretto a fare conti con questa nuova Rossella. La cosa interessante ovviamente è il fatto che lui se ne accorge, lui si rende conto dopo il matrimonio che lei lo ha ingannato. Ma ormai è andata così, lui era un uomo che alla fine aveva aspettato tanto per sposarsi, che alla fine insomma aveva bisogno di una moglie e quindi decide di diciamo di trovare un compromesso e accettare questa moglie un po' diversa insomma da quella che si aspettava. In realtà lei si comporterà sempre in una maniera che lo metterà in cattiva luce di fronte alla società, che lo vedrà anzi vergognarsi anche di lei, che lo farà arrabbiare ma lei l'avrà sempre vinta, sempre fino all'ultimo. Parlando invece della parte storica che quindi racconta la storia di quegli anni, il fatto che la guerra di secessione sia persa, sia stata persa dagli stati del sud, ovviamente ha delle ripercussioni sulla vita di Rossella e di tutti i personaggi. Quindi qui ho ammirato moltissimo il fatto che Rossella abbia saputo capire che l'epoca che hanno vissuto prima della guerra ormai non c'è più, non esiste più e non sarà più possibile farla tornare almeno per il momento. Alcuni personaggi non se ne accorgeranno mai, altri personaggi se ne accorgeranno molto dopo, lei invece praticamente addirittura prima della resa dell'esercito dei stati del sud aveva capito che niente sarebbe stato come prima. Qual è il suo scopo? Il suo scopo è soltanto quello di riavere abbastanza denaro per poter avere una vita dignitosa. Questo è il suo unico obiettivo, lodevole o meno che sia, questo è quello che lei vuole avere ed è quello per cui lei lotterà fino allo stremo. Anzi, molte delle preoccupazioni e delle tristezze che arrivano alla sua mente lei le scansa dicendo sempre un giorno ci penserò, un giorno ci penserò perché adesso deve concentrare tutte le sue forze per riuscire appunto a guadagnare abbastanza denaro per poter far risorgere Tara. Per quanto riguarda la situazione degli schiavi ho apprezzato molto come l'autrice ha descritto il tutto perché diciamo che ha fatto vedere un po' entrambi i punti di vista. Ovviamente c'è il punto di vista di Rossella che è una padrona bianca, quindi una donna che ha sempre avuto gli schiavi e che considera le persone di colore come qualcuno, come degli animali, quindi persone che non sono realmente persone, molto ingenue, molto insomma poco capaci di prendersi cura di loro stessi senza un padrone che li comandi. Però allo stesso tempo vengono evidenziati anche i reali problemi che una liberazione così incondizionata e senza regole aveva portato in quel periodo. Quindi l'esistenza di un numero altissimo di schiavi, di ex schiavi senza un lavoro, senza una dimora, ubriache tutto il giorno a rendere le strade pericolose. e soprattutto il fatto che non essendoci nessuna legislazione ancora attiva per regolare i rapporti tra bianchi e neri c'è una diffidenza totale e nasce il Ku Klux Klan, quindi l'aumento della violenza, delle vendette private tra bianchi e neri, il fatto che le strade non siano sicure, insomma viene affrontato anche questo tema che ovviamente è quello che sta alla base della guerra e che ha delle ripercussioni anche dopo la fine della guerra. Rossella è anche colei che finalmente si emancipa, quindi è una donna che per la prima volta o comunque per la prima volta nella società nella quale vive comincia a dedicarsi al lavoro e va in giro per la città nonostante sia incinta, non sia mai, fa di conto a mente, non so, prende contatto con i clienti, insomma fa delle cose che assolutamente una donna dell'epoca non poteva fare. Ecco, questo ovviamente la spinge ad essere un'eroina, la porta ad essere, scusate, un'eroina dell'emancipazione femminile. Oggi si parla tanto di emancipazione, si parla tanto di parità di diritti eccetera eccetera, ma a volte si fanno, perlomeno qui in Italia, sui social si fanno delle lotte abbastanza inutili e assurde, cioè qui si vede veramente che cosa ha il potere che ha una donna e soprattutto la grande rivoluzione tra il prima e il dopo. Lei continua in perterità per la sua strada, non si cura assolutamente dei commenti delle altre persone, lo fa per un motivo che può essere più o meno lodevole, perché alla fine lo fa soltanto perché vuole guadagnare, non lo fa di certo per il diritto delle donne a lavorare come gli uomini, questo no, però è anche vero che alla fine sarà un esempio per le donne che la circondano o per comunque le loro figlie. Sicuramente avrà portato un cambiamento che sarà diciamo inarrestabile, comunque non si potrà più tornare indietro. Io ho ammirato quindi anche questo lato del carattere di Rossella, così spigoloso, così a volte rude e sicuramente difficile da amare, però ecco su certe cose bisogna dire che è un personaggio incredibile, con una forza micidiale che si adatta perfettamente al suo essere, alla sua personalità. L'ultimo punto che voglio toccare è il rapporto tra Rossella e gli uomini. Allora sì, da una parte mi è dispiaciuto che in questa seconda parte del libro non ci fosse un, insomma non fosse tanto presente a Rhett, che devo dire è un personaggio estremamente interessante, che porta un po' di pepe in questa storia, c'è però Ashley, Ashley ogni presente, soprattutto nel cuore di Rossella. Ecco, in questa seconda parte ancora di più ho detestato questo amore assurdo tra di loro. Da una parte abbiamo Ashley, che in questa seconda parte soprattutto si rivela il suo vero essere, ovvero un uomo inutile, un uomo che non sa fare niente, perché non sa lavorare con le mani, comunque fare lavori manuali, perché in campagna assolutamente non è capace di fare niente. Allora Rossella lo mette a capo di uno dei suoi stabilimenti, perché comunque lo considera un uomo intelligente, che ha letto tanto e che quindi può essere capace magari di concludere buoni affari. E no, non sa fare nemmeno quello. Ma voi vi chiederete, saprà fare il marito? Non sa fare nemmeno il marito, perché lui, nonostante abbia accanto una donna devota e bravissima, è in realtà innamorato di Rossella, in questa seconda parte del libro glielo dice chiaramente, la bacia, eccetera, ma non ha il coraggio di prendere una decisione definitiva, non ha il coraggio di lasciare sua moglie, per quanto assurdo potesse essere in quel periodo, e stare con Rossella. Quindi inganna una donna che è probabilmente la più santa di tutto il libro, cioè sua moglie, e allo stesso tempo però inganna anche Rossella, perché nonostante le abbia detto di amarla, continua, insomma, nella sua imperterrita lotta per la dignità e per l'onore, e quindi ad illuderla e basta. Non sopporto il fatto che Rossella rimanga per così tanto tempo innamorata di quest'uomo così inutile. Mi stupisco che nessun altro uomo, a parte Rhett, ma sempre in maniera minore, abbia destato il suo interesse, perché lei ha bisogno di un uomo che sia intelligente quanto lei, ma non soltanto di intelligenza, ma anche di capacità, di forza d'animo, coraggio. Ashley non è così, Ashley non è così, è sì coraggiosa, è stato coraggioso in battaglia, ma poi nella vita non si è dimostrato, ecco, un vero uomo, come si suol dire. Quindi ho detestato questo fatto che Rossella, pur di averlo accanto, è disposta a fare carte false. Se c'è un motivo per cui Rossella potrebbe perdere tutto e perdere la sua mente fredda, è soltanto Ashley. Solo per lui lei perde completamente la ragione e anzi non riesce nemmeno a vedere i problemi che quest'uomo le causa. Quindi, insomma, niente, questa è una cosa che mi ha irritata per tutto il tempo e spero veramente che nella terza parte, in qualche maniera, questo Ashley venga un po' allontanato, ma non credo perché lei, nonostante i mesi o gli anni passati lontani, quando lo rivede, va fuori di testa, praticamente. Bene, ragazzi, ho parlato tantissimo e vi giuro, ho cercato di riassumere il più possibile. Adesso ci aspetta la terza parte del GDL, che è la parte più piccola, perché, perlomeno nella mia edizione, che è questa bella vecchiotta, le prime due parti contavano circa 350 pagine l'una, mentre l'ultima parte ne ha le in circa 250, quindi dovrei riuscire, insomma, a leggerla anche con maggiore rapidità, visto che finisco sempre il libro al limite della data di scadenza. E niente, quindi adesso aspetto tutti i vostri commenti, fatemi sapere se ci sono delle cose che non ho toccato, degli argomenti che avreste voluto approfondire, così ne parliamo tutti insieme. Grazie, come sempre, e noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!